Ciao ragazzi, come state? Allora, bentornati sul mio canale Scusate se guardo di lì Ma scusate ovviamente la faccia Spatta perché fa davvero schifio Ma Praticamente voglio fare un get ready With me insieme E scusate se ogni tanto Guardo a lì Però c'è una schermata Sulla fotocamera Che non capisco cos'è E mi sta davvero urtando I nervi Però vabbè Allora, oggi voglio fare Come vedete dal titolo Un video In smr In napoletano Mi è stato richiesto varie Forse no Mi è stato richiesto o da una o da due di voi E quindi ho pensato bene di fare un video In napoletano Perché è molto È molto carino Come video E come idea E poi può essere anche Che vi rilasserà La lingua Nei oggi E quindi Iniziamo subito Intanto mi voglio scusare con voi Sia per il mio aspetto Veramente orrido Ma che adesso andremo a sistemare E vi voglio anche scusare con voi Perché non sono molto presente Qui sul canale E quindi Spero di riuscire a tornare Assiduamente Assiduamente Spero di riuscire a tornare Con più Parte con più grinta Ma poi con più frequenza Ecco Allora Adesso La smetto di platerare E inizio con il video E inizio anche con Il restauro totale Del mio look Voglio provare cose nuove con voi E poi Un'altra cosa Che volevo dirvi è Non metterò sottotitoli in italiano Perché mi sembra un po' inutile Alla fine Lassatevi Poi se capite Beh Se non capite Vedete voi Però bene o male La lingua napoletana Si capisce Non è un dialetto Proprio difficilissimo Allora Iniziamo subito Allora Oggi Voglio fare Un video Voglio Voglio Truccare Questa paletta nuova Che Questa sarebbe L'olita Magari mi sembra Un'altra nuova Scusate Scusate L'aspetta che tenga Stasera Però Stasera Perché De me è sera Sui dieci Mese Quasi E Praticamente Da sti orno Non mi ha sentito Proprio buono Perché Ho già avuto Da freva E Pure Ad os Ad os Proprio Assai E Poi Ho già avuto Puro Un male capo Un male capo Proprio forte Infatti Mi pigliavo Tutto Cantina E Pure Purare Da capo Perché Favorito Può fare Capo Può fare Favorito Non si capisce Menni Pag Con Questa Correttura Essence Questa È Una Correttura Diciamo Coprente Però Non è Coprente Però Comunque Mi Ho Mett Perché Lascia Fornì Perché Praticamente Tenga Scendano E Mi Pare Puro Fornì Secondo Mi Si Sta Scaricando La Luce Perché Non Capisce Niente Ok Allora Chi Sto Paga Mettere Coppa Coppa Lo Tenga Tutti In Macchia Perché Se Nacca Coppa E Paga Fa Fa Sta Fa Cosa Perché A Pur Cai Tenga B Ottimamente Tenga Proprio Non si Fuoco Esagerate I Macchie Bull Paga Mettere Pure Sotto Allora Occhie Perché Tenga Certi Fossanire Ma Para Amortizia Po Praticamente Ultimamente Allora Io Tenevi Capile Più Chiare Isto Non Era Così Era Una Castana Un po Gramata Però A me Non mi piacciono I capillera Amata Non mi piacciono Proprio Parana Vecchia E Che Le sfumature Rosse Arancio Cioè Magari E Quindi Siccome Lo facevo Proprio Chiangere Ci Tutto Parrucchiere E Magari Fatto Capil Nuo E Praticamente Chi Non so Proprio Nere Non so Nere Chi Sono Quasi Nere Sono Castana Marrone Però Sono Proprio Marrone Scuro 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 Però Mi piacciono Più Non fa Niente Che Parra Amortizia Però Con Quelle Capille Marrone Mi pare Proprio Una Vecchia Capille Scagnate Allora Mo Come Verete Praticamente Mi sto In Tutte Tutte Macchie Tutte Disclomie Tutte Disclomie La faccia Ruizero Così Parra Parra Un po' Meglie Diciamo Allora Facciamo Così Vediamo A can Che Sto Cosa È Talmente Pazzerilla Che Non C'è Niente Aspettate Ok Voleste Una cosa Volevo Però Voleste Poi Rilassare Nel stesso Momento E Comunque Non sono Stata Proprio Buona C'è Tenuta Freva La Tosse Proprio Assai Un po' C'è Tenuta Mare Gappa Proprio A sinusite A cervicale A Che La cosa Che Viene Sempre Come Si Chiam L'emicrania La Cefalia L'emicrania Una cosa Chissà E Comunque Un male Capo Proprio In Fit In Capo Non Era Un male Capo Tipo A capo Che Scoppia Era Proprio In Fit In Capo E Infatti Stiva Un Spaventana Perché Gitta Ma Sosti Fit In Capo Invece Che L'era Era Fritto Cioè Praticamente Faceve Troppa Fritto E Quindi Siccome C'è Tutta Freva E C'è Assoluto Da Quando Ancora Non Stiva Buona Poi Gli Affatica Ovviamente Perché Quando Non Stai Buona Gli Affatica Stessa E E Quindi E C'è Piata A Cefale Anca C'è Cosa E Emozionante E Stupende Poi Fatto Questo Vado Anzi Adesso Mi vedete Un po' Bianca Però Non vi Preoccupate Perché Adesso Vado Mettere Un po' Di Blush In Terra E Ci Mi Sono Po' Che Burro Cacao Perché Tengo I labbra Sempre Sec Apparano Proprio Una Carta Petrata Poi Fatta Questa Paga A Mettere Poche Cipria A Mettere A Cipria Non Mi Piace Proprio Perché Mi Fa Anca Parano Mura Però Siccome Tengono Sacchi Prodotti E Pensate Che Già Finito Sta Rob Quindi Paga Mettere Candida E Poi Poi Cipria Sto Pagano Ma Pagano A Mettere Un Coppa Faccia Perché Pagano 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 Opacizzate Tutte Pagano Opacizzate Tutte Zona Che Sa Luce Delle Chiamere Pagano 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 Perché Se No Facimo Bello Quaghi Ecco Qua Comunque A me Cipria Non mi piacciono Pagano 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 Mi pare Troppo Pagano Pagano Non fai Pagano 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 Allora Qui Pagano Paletta Benefit Con Tutti femme Un coppe Ce Deã Ma Chia Pagano Si Chia Chie Che Parade questo va a prendere la terra, mi piace assai, infatti l'arinda già sta nel buco e mischio, e poi mi voglio metterlo, mi voglio capire, mi voglio capire, mi voglio capire il tuo specchio mi fa male capa, mi face sempre male capa, mi face sempre qualcosa che conturano la tua nasa vabbè, non la tua nasa, copponasa, ma qui mi faceva una nasa un po' che è strana, se capisce se è pizzerilla, se è rossa, se è storta, se capisce niente ecco qua appara ancora più rossi prima Kist è un blush a marca si chiama Bella è praticamente un blush nuovo e Kist è giubiliata coppa Maggie Beauty costava 3 euro e comunque è un blush proprio per Zrill è un colore un colore un po' strano all'antinta pare all'antinta pare tipo arancione però non è arancione è tipo albicocca e comunque è leggere perché non è assai forte si sfuma si sfumata buona è bella vabbè io sono sempre gialla la parola no jimson io vado a mettere questa matita e i sien però praticamente sta finendo verete va quasi finendo però siccome mettere metterà la matita si io a modo mi scoccio e vorrei accendo come si mette cosa ancora per sovraccigli perché mi scoccio proprio e quindi non mi vuole stancare pure a voi come vedete invece fatti sovraccigli forse questa è venuta un po' troppo rossa rispetto a questa questa è più pazzarilla questa è più grossa favorita però questo non importa tanto stessa non è già sì allora mo ha più bella mo ma vado a mettere questa palette e secondo me questa palette è troppo bella cioè secondo me i paletti che a fondi sono proprio belle perché siccome si fa i tatuaggi quindi è proprio bravo a fare i disegni i scrittori e tutte queste cose casti specie e i scarabocchi che fai quindi sono diciamo tutto quanto matti sono tutto quanto matti i colori definiti e sono tutte sfumature e diciamo viola però non è che sono proprio viola perché ci stanno i colori un po' marroni aranciati che stanno viola pella scura che stanno diciamo una specie di color tipo uva che stanno rosa che stanno young quindi i colori non so proprio colori forti cioè comunque questi colori potete fare un sacco di trucco e allora vado a mettere a cosa belle sta palette che tutti quanti tutto quanto l'ombretta i nomi i nomi vedete questi scritti c'è tutto quanto l'ombretta tiene un nome spagnolo sotto quindi mi piace proprio il size allora ora vado a mettere questo che sarebbe una rosa chiara 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 proprio una rosa chiara 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 si chiama promesa e vado a mettere coppa sotto allarcata allarcata mettere qua sotto boh ho vado a mettere qua così il mio da illuminazzo io vado a piagist che si chiama con amor io vado a mettere un coppa tutta l'occhio colore è bella 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 carica è bella pigmentata mi piace proprio assai a me i colori e l'ombrette e i cattondi mi piacciono proprio assai guardate aca ad che che lì coloro sciva che fanno gente i paletti i pasqualini e scivitavare la gente perché fai video in coppa youtube se pensi di essere i make up artist e poi fanno niente pelle ha visto com'è pelle ma che fa la stessa cosa por aca comunque sta paletta già è proprio l'amo è la mia preferita già stando cuore mio allora siamo eterno siamo più eterno ci partimelo poco perché sennò c'è tutto a poco e vogliamo mettere qua gente amica e poi facciamo una cosa intensa dall'occhio e facciamo la stessa cosa por aca che sta qui una specie rosa malba si chiama ermosura ermosura ho piglio con è pure tutto sporco sto pannello vabbè ho piglio questo pannello e ho pagato a sfumare accantina faccio una specie sfumatura con tutte i colori ecco si così ammesca tutte le colori e la sfumatura pare più bella no almeno speriamo che bene più bella perché non è che io faccio la parte però mi fa così bene vado a mettere una matita marrone dall'occhio che c'è tinta proprio all'occhio ma vado a mettere un po' torno questo colore che si chiama ricuerdos da specie marrone un po' rosse con pannello peccere perché poi intensifica qui sotto quindi va così è l'avrita ma mami questa paletta è più bella che sta comunque sta paletta mi ha regalato fidanzata mia chi lo sa un tom ecco qua mamma mia è più bella questa paletta guardate com'è bene bacana la voce non ho poco perché cancop non è tanto forte perché sta paletta mi piace assai però cantina ci mancano colore scuro scuro tipo non nera c'è sta chist però non è proprio nera io voglio non nera ma provare con chist se fa buono perché volessi fare una specie eyeliner prima con me voglio intensificare sulla affina così merito è più bella faccio la stessa cosa por aca allora io voglio mettere questo qua ora sta voglio mettere questo di essenza e poi mettere questo sempre senza perché questo però è quasi venuto questo e poi passa questo qua perché questo mi piega il latemian è lungo allora mi metto un mascara e poi ci vediamo mi metto una nuova nabla questo si chiama time flies è bello mi piace è un colore proprio bello di corde mia allora i love i love you però chi sta già mezzo avvisa una volta e subito si allieva però mi piace proprio assai è proprio bello sto rosetto allora questo è un trucco mio ma lo faccio un po' meglio ecco qua diciamo secondo me sta buono perché se coloro stanno buono con l'occhio mio che capino mio e tutto quanto chi sta tale quale chi sta secondo me è bello facitemi sapere se sto video vi è piaciuto e se sto trucco vi è piaciuto ci vediamo la prossima volta vi è piaciuto 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 vi è piaciuto